Grazie a tutti. Grazie a tutti. Gli esperti che vengono un po' da tutta l'Europa, abbiamo rappresentanti anche della Federazione Russa, della Norvegia, della Germania, che sono dei new entry che non c'erano l'anno scorso e ci aspettiamo anche da loro un contributo particolarmente valido per cercare di vedere come sono andate le cose nel passato e come si proiettano nel futuro, soprattutto sotto il profilo della sostenibilità. Possiamo fare un po' di nomi, anticipare alcuni dei temi della mattinata? Sì, i nomi sono in gran parte quelli di questo gruppo di lavoro che si sta consolidando, per cui praticamente ci sono queste novità che ho citato prima di varie università europee, però la competenza dei nostri relatori è oramai provata. Abbiamo diversi relatori che vengono anche dall'Italia e analizzano in particolare un tema di grandissima importanza che è quello dell'energia. Avremo il dottor Tavarelli che è il presidente di Nomisma Energia, avremo il professor Giacomelli che è un fisico di fama internazionale, abbiamo il dottor Toscano che ha lavorato a lungo nel settore nucleare. Quindi credo che in questo settore strategico che è quello dell'energia daremo una copertura abbastanza ampia delle problematiche che sono in corso. Una dimensione sempre più internazionale, quindi per Ravenna, per fare i conti con l'ambiente, un comitato scientifico importante di caratura mondiale. Certo, noi riteniamo che oramai le tematiche ambientali non possono essere soltanto quelle che si praticano a livello locale, che sono importantissime, ma ci vuole una visione globale, altrimenti il problema della sostenibilità non verrà risolto. Facendo queste iniziative che sono spalmate sull'intero territorio dell'Unione Europea c'è forse qualche probabilità in più che si muovano anche quelle azioni che vanno a beneficio non solo del nostro pianeta nella parte nord ma anche in quella della parte sud. Invece con il professor Marco Abbiati da Bologna parliamo dell'intervento suo specifico che andrà ad effettuare in mattinata. Sì, io stamattina parlerò dell'evoluzione del concetto di sviluppo sostenibile che è stato ormai, a 25 anni ormai, perché è nell'87 che venne diffuso nel mondo come filosofia per la sostenibilità e per uno sviluppo delle attività umane e dell'economia che non andasse a impattare in maniera eccessiva sugli ecosistemi. Il sviluppo sostenibile è un termine che è molto contraddittorio, cioè non soddisfa chi vuole salvaguardare l'ambiente, non soddisfa gli economisti ed è un punto di mediazione che è stato raggiunto 25 anni fa, confermato 20 anni fa a Rio, riconfermato a Rio quest'anno, però a 20 anni di distanza dalla conferenza di Rio cosa abbiamo fatto effettivamente per andare nella direzione della sostenibilità? Lo sviluppo c'è stato, noi abbiamo il PIL, il PIL ci dice se scendiamo, in termini economici abbiamo un indicatore numerico che è universalmente accettato, che ci mette in crisi in questi giorni perché non sta crescendo abbastanza o sta andando indietro. Da un punto di vista invece della sostenibilità cosa abbiamo fatto? Dove siamo arrivati? Abbiamo fatto dei passi avanti? Questo secondo me è il punto più critico del concetto di sviluppo sostenibile perché le tre componenti che devono controllare lo sviluppo della società dovrebbero essere l'ambiente, l'economia e la società stessa. Chiaramente l'economia è quella che comanda perché ha il potere proprio di gestire quella che è la produzione, di gestire le fonti energetiche, di gestire il benessere dell'uomo, quando poi passiamo alla società siamo tutti noi perché tutti noi beneficiamo delle ricadute economiche, l'ambiente resta comunque in secondo piano, mentre dovrebbe essere al centro perché l'ambiente non fa sconti, ce ne accorgiamo, quando noi facciamo un danno ambientale lo paghiamo, non lo paghiamo oggi, lo paghiamo domani, non lo paghiamo domani, lo pagheranno le generazioni future, ma questo è il problema, è un meccanismo che si innesca e che non si disinnesca da solo, noi ci illudiamo di poterlo disinnescare con le tecnologie, di poterlo disinnescare con lo sviluppo di nuove metodiche, ma noi non siamo in grado di sostituirci a quelli che sono i processi naturali, per cui dobbiamo salvaguardare questi processi e finché non metteremo al centro la nostra attenzione la conservazione dei processi e le leggi che governano questi processi, perché le leggi dell'economia le abbiamo stabilite noi, uomini, in funzione dei nostri interessi, in funzione dei interessi della nostra società, di dove volevamo arrivare. Le leggi della natura esistono da miliardi di anni e hanno portato allo sviluppo dell'uomo stesso, se non vogliamo che l'uomo scompaia dovremo tenere conto di queste leggi, perché se no, se sarà troppo tardi, non riusciremo più a recuperare e a rimetterci al passo con quelli che sono i processi naturali. Come dico, noi ci lamentiamo degli eventi che portano eventi luttuosi, cioè morti, la gente che in caso di tsunami piuttosto che di eruzioni vulcaniche muore. Ma perché muore questa gente? Perché noi non siamo in grado di controllare le forze della natura alla fine. Noi cerchiamo a volte di prevenire, e questa è l'attività che dobbiamo fare, ma evitare non siamo in grado. Per cui se noi costruiamo dove c'è un rischio di eruzione vulcanica, prima o poi il danno ci sarà. Se noi andiamo a sviluppare centri turistici dove c'è un rischio di tsunami, prima o poi il danno ci sarà. Cioè la natura, come dicevo, va avanti per il suo corso. Dobbiamo tenere conto di questo, non soltanto per quanto riguarda questi eventi estremi, ma per quanto riguarda la nostra quotidianità. Abbiamo visto il caso recente appunto di Taranto, dove a decenni dall'inquinamento e dalla contaminazione i problemi sono sempre lì. Abbiamo parlato recentemente anche dei problemi relativi all'amianto. Cioè alla fine dobbiamo pagare, questi costi vengono e qualcuno deve fare fronte a questi costi. Grazie professore, buon lavoro. Grazie a voi.